Studio Danza Abbiamo invitato per la settima edizione il vincitore di Amici Sessione Ballo perché insomma noi abbiamo una scuola di ballo e quindi chiamiamo la categoria inerente alla nostra disciplina vi invitiamo a venire a iscriversi alla nostra scuola che si trova in via Livatino numero 9 all'Equile insomma adesso vedrete degli spezzoni di quello che noi facciamo, coreografie e vedrete anche il nostro Gabriele ballare venite numerosi, ci teniamo tanto, un bacione e buona visione inoltre saranno presenti anche coreografie da parte delle nostre insegnanti poiché noi siamo delle direttrici artistiche di insegnanti di Danza del Ventre e anche di Danza Classica invece noi insegniamo hip hop e moderno, oltre che latino arrivederci, ci aspettiamo, ciao potete piangere liberamente ora, piangete veramente è stata una serata magica proprio forse è stata la più bella fino adesso perché ne sono due, mi sono dato tutto al pubblico però comunque la cosa che mi fa piacere è comunque tutti e quattro noi finalisti abbiamo un rapporto bello forte quindi per noi non è stata una sfida, è stato semplicemente divertirsi sono veramente soddisfatto di tutto quello che ho fatto perché qua sono cresciuto e lo dirò da adesso fino a sempre perché amici ti cambia cioè io sono entrato da amici che non ero così ero un'altra persona proprio io vedo il cielo sopra noi ebbene questo è l'RWM sulla storia ad amici di Gabriele è arrivato il momento di presentarlo ufficialmente sono tutti insieme uno, due, tre ok che cosa? una domanda sotto tutto se sei abituato a tutto questo visto che l'anno scorso penso che giravi e uscivi a con la luce e l'altra non gridavano adesso gridano tutti ti sei abituato? no non so se hanno paura per sorprendere e l'altra non è rivolta è anche bello è anche bello il Salento lo conoscevi la prima volta che viene da questo party? ma se non è venuta a Gallipoli? io non so se non è venuta a Gallipoli l'anno scorso è venuta a me l'anno scorso è venuta a me l'anno scorso a Gallipoli avevi già incrociato Sergione il Salento ti piace una bella terra? bellissimo possiamo strapparti dove torna annunziata la più bella terra d'Italia è questa? ma ce l'abbiamo fatta ma ce l'abbiamo fatta potrebbe trasferirci qua un domani chi lo sa che si va a sorgere la Elovi vabbè vogliamo vederlo ballare adesso anche signore e signori accogliamolo con un forte applauso Gabriele, la sua coreografia un applauso positivo per la musica ciao Sì, è vero. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.